ASSR la gemelletta ciao e bentornati in un nuovo video insieme a me il video di oggi come avete visto dal titolo è un video molto molto profumato si perchè io adoro proprio il muschio bianco tantissimo e a quanti di voi piace il profumo del muschio bianco? sono sicura che c'è qualcuno che lo ama quanto me allora ho trovato tutta la linea in offerta del muschio bianco e allora ho deciso di prenderla e ho detto perchè non fare un video rilassante con il muschio bianco peccato non ti posso non vi posso far sentire il profumo attraverso il video ma se lo conoscete potete rilassarvi immaginando anche questo profumo allora per essere totalmente muschiosa anche dopo la doccia ho trovato l'ammorbidente per la biancheria di modo che anche l'accappatoio sa di muschio bianco anche se l'accappatoio in realtà è verde però e infatti dice che le inebrianti ed esclusive fragranze firmate tesori d'oriente avvolgono finalmente avvolgono finalmente anche i tuoi capi più pregiati fortemente muschiato e ambrato il profumo del muschio bianco arricchito con preziosi micro capsule accarezza si accarezza il tuo bucato lasciandolo morbido a lungo e profondo speriamo che funzioni davvero è una formulazione abbastanza densa anche se il suono è liquido già iniziamo a sentire questo meraviglioso profumo di muschio bianco poi come potevo non prendere il bagno schiuma tra l'altro l'ho trovato anche questo è un'offerta questo è proprio la confezione di alluminio bagno crema aromatico white a bat cream white mask prima qui per qui fare un video dove sentite anche il progetto è stupendo stupendo adesso proviamo insieme a vedere la schiuma che fa ho preso questa bacinella blu piena d'acqua e l'ho appoggiata su un panno per non bagnare il tavolo anche se devo dire che ultimamente ho scoperto una nuova tecnica per proteggere ad esempio se avete un piatto caldo e volete mangiare davanti al pc c'è un modo per non far bruciare il tavolo o comunque ripararlo però oggi avevo bisogno di un sostegno più robusto quindi l'ho lasciata sul tavolo con un panno di spugna allora ho preso appunto questa ciotola blu e ho preso l'acqua e ho preso l'acqua adesso insieme guardiamo com'è questo bagno crema al muschio bianco in quanto riguardiamo questo è è questo è questo è il Grazie. Grazie. Deliglioso, deliglioso. Adesso prendiamo il manoschio. Che è veramente molto cremoso. Spirigiona il suo classico profumo di muschi. Ho preso anche una spugna. Per vedere quanta schiuma fa e aumentare questo profumo incantevole. Mettiamo un po' di bagno schiuma sulla spugna. Ne basta poco perché fa tanta schiuma. Stai un po' di bagno schiuma sul domando. Hi, come una bambina di sayanni. che vede la schiù e le bolle ma voi non avete idea del profumo di muschio che ho in questo momento sto riempendo niente muschio la voglio un po' di schiù e al muschio bianco muschio bianco muschio bianco muschio bianco mi sto riempendo i capelli va bene ma tanto più profumo di schiuma di muschio bianco è meglio calzare riempendo e riempendo e riempendo e riempendo e muschio bianco Pianco 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 La schiuma profumatissima non potevo non prendere il deodorante c'è anche l'altra confezione quella fatta in alluminio stondato come il bagno schiuma ma questo l'ho provato sono sincera perché costava meno allora è un deodorante è proprio un deodorante spray però io me lo do così e quando rido e mi muovo questo profumo di muschio si sprigiona completamente e poi anche se non dobbiamo esagerare per via dell'alcol io lo spuzzo un po' anche così nei capelli io vi farei sentire quando mi muovo il profumo di muschio, di muschio, di muschio, di muschio ora sono completamente invasa del muschio bianco un altro pochino che meraviglia che meraviglia io mi auguro che vi siate rilassate profumate e come sempre vi auguro che domani sia il vostro giorno speciale un bacio al muschio bianco ciao 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 ciao